E' meraviglioso, si respira un clima che neanche ha comunione e liberazione, siamo oltre il messaggio evangelico. Sai cosa vuol dire? Dimmi. Sai cosa vuol dire? Io non sono fedele. No, neanche io, ci stiamo tramutando in qualcosa di diverso. E' questa la grande trasformazione di questo movimento. Sì, sì. E' fantastico, c'è cose che pensavi di non avere, invece le stiamo comunicando e ce le scambiamo, è fantastico. Mettiamo una comunità.